Buongiorno, sono Lorenzo Bronese, Banca Popolare e Commercio Industria, gruppo UB Banca. Oggi sono orgoglioso di avere qui l'associazione Berl'Arte che raccoglie 85 tra gallerie d'arte, associazioni e siti che si occupano di arte. Banca Popolare e Commercio Industria è una banca del territorio di Milano che ha sempre seguito e sempre seguirà l'attività socioculturale della piazza, della città e non per ultimo anche tutte le attività artistiche. Sponsorizziamo parecchie iniziative soprattutto per dare impulso a questo territorio e a queste attività che con la crisi economica ha sempre meno spazi di crescita. Crediamo molto nella socialità e nella possibilità di dare uno spazio a queste attività che fanno crescere l'animo umano. Effettivamente noi siamo un'istituzione finanziaria ma come tale abbiamo anche la responsabilità di dare visione e visibilità a spazi e non solamente finanziamenti o soldi a queste attività che raccolgono tra noi una grande spiritualità e quello che vogliamo fare è essere insieme a Berat un tutt'uno, non solamente in questa occasione ma in tutti gli anni a venire per cercare di allargare questo consenso e dare la possibilità a tutti gli artisti emergenti ma anche affermati di avere una visibilità non solamente a Milano ma anche su tutto il territorio nazionale.